Abbiamo voluto mantenere la complementarietà tra le persone, come fossero degli ingranaggi che muovono un gigantesco sogno, come se noi fossimo un filo trasparente. In un progetto di queste dimensioni, la scelta di donare frammenti della propria anima e delle proprie capacità si è mostrata imprescindibile. Per sostenere questa visione poetica, sono entrato in questo magico carillon muovendomi tra le meccaniche perfette del testo e della musica. L'opera del Don Giovanni, come una scatola con le pareti di immagini, su cui poggiano quelli che parlano cantando, vestiti di chiaro, illuminati dalla forza che scarta le ombre, mossi dalla musica divina che scoperchia. Grazie a tutti!